Bambini e tablet. Fin dai primi mesi di vita li calmiamo con il tablet o il cellulare. Ma questo è giusto? Ne parliamo con un esperto. Buongiorno, professor Lavenia, psicologo, psicoterapeuta e presidente dell'associazione di te che è proprio specializzata in dipendenze tecnologiche bambini e ragazzi. Allora, quali sono i dati sull'uso di queste tecnologie da parte dei bambini? I dati sono molto significativi quelli che abbiamo raccolto in quest'ultimo anno grazie anche a un lavoro condotto in collaborazione con l'associazione nazionale di pediatria condivisa e abbiamo visto che fin da piccolissimi viene dato lo schermo a bambini. A volte esponiamo addirittura i neonati allo schermo. Alcuni dati che possono essere significativi consideri che da 3 a 4 anni il 17% dei bambini italiani ha uno smartphone che magari è uno smartphone del papà o della mamma che viene dato a questo bimbo ma può avere accesso allo schermo e all'utilizzo della tecnologia smartphone. Ricordo sempre che la tecnologia smartphone, cioè saper usare un touch, non vuol dire avere poi la capacità cognitiva per gestirla e quindi ricordiamoci che sono bambini invece lo smartphone è uno strumento per adulti. Allora, a volte addirittura le mamme che allattano, allattano il neonato utilizzando il cellulare dunque c'è proprio un'esposizione molto precoce ma i bambini piccoli che hanno in mano un tablet o il cellulare dei genitori bambini di pochi mesi, di un anno, tre anni, cosa fanno con questo cellulare? Cosa fanno? Intanto sono attratti dalla luce se ci pensate lo schermo luminoso già di per sé attrae se noi mettiamo un bambino, anche molto piccolo, anche un anno, un anno e mezzo, due anni mettiamo una fonte luminosa che può essere la tv, quindi uno schermo passivo o appunto uno smartphone o un tablet, loro sono già di per sé attratti dalla fonte luminosa Cosa fanno? Molto spesso sono appunto dal lato attratti ma dall'altro utilizziamo questo strumento per calmare i nostri figli molte mamme o papà mi raccontano e ci hanno raccontato anche attraverso i dati che svezzano il bambino con lo schermo perché una frase che mi sento dire molto spesso è mio figlio non mangia se non ha lo smartphone in realtà questo è pericoloso sia da un punto di vista fisico perché appunto il bambino rischia il soffocamento perché non sta attento non presta attenzione a quello che mangia ma soprattutto c'è anche un rischio legato al non far acquisire al bambino la capacità di gestire la frustrazione quindi io sto insegnando quel bambino che per fare quella determinata cosa ho per forza necessità di un oggetto esterno e quindi la capacità invece di gestire la frustrazione a volte anche il pianto il saper dire no da parte di noi genitori può essere molto importante perché altrimenti il bambino cercherà sempre all'esterno qualcosa che gli risolve il problema invece che trovare risorse interne quindi no allo schermo soprattutto i primi tre anni di vita dunque no allo schermo i primi tre anni di vita questa è un'indicazione chiara dunque il bambino poi deve anche capire come gestire la noia, la frustrazione dunque questo è interessante dunque però c'è invece un'età in cui i bambini possono usare il cellulare quando diventano un po' più grandi e un tempo poi non solo l'età ma anche una durata allora il tempo sicuramente un indicatore non è sufficiente per valutare come dire anche il rischio sicuramente l'età è molto molto importante l'organizzazione mondiale della salinità dice che dopo i tre anni di dare accesso e soprattutto di non superare l'ora di utilizzo consideri che oggi in Italia passiamo mediamente quattro ore al giorno sui social e più di otto ore al giorno online questi sono gli adulti ma i bambini e i ragazzi non differiscono molto quindi comprende bene che c'è una grande esposizione all'utilizzo dello schermo da un dato di riferimento che vuole essere importante anche l'esposizione a uno schermo passivo per esempio la tv un tablet c'è una bella ricerca inglese recentissima tra l'altro che ci dice che un bambino esposto nei primi 24 mesi di vita a un'ora e mezza di schermo passivo a 5 anni avrà il 30% di rischio in più di avere un disturbo della socializzazione e addirittura a 10 anni avere 20 volte in più il rischio di avere un disturbo dell'attenzione un disturbo dell'apprendimento quindi già di per sé lo schermo passivo porta a distrarre porta delle difficoltà e quindi sarebbe meglio evitare quindi l'età giusta io dico sempre non prima dei 13 anni l'accesso alla rete limitare molto il tempo fare un contratto delle regole chiare sull'utilizzo e soprattutto far accedere alle varie applicazioni in base all'età perché poi tutte le applicazioni come quasi tutti i giochi hanno una classificazione che ci consiglia a che età far accedere il ragazzino allora spesso siamo proprio noi adulti a essere un po' pigri a essere un po' dipendenti da questo cellulare e a dare il cattivo esempio cerchiamo di invertire cerchiamo di dare dei consigli alle famiglie su cosa fare per esempio durante i pasti immagino non bisogna mai avere il telefonino sul tavolo ci sono delle regole d'oro la regola è quella del buon esempio noi ci dimentichiamo spesso che i bambini acquisiscono le competenze prevalentemente per osservazione e imitazione e noi che adulti siamo in questo momento? siamo adulti con uno schermo sempre in mano con un telefonino sempre in mano ci vedono così durante le poppate il 50% 54% di realtà degli italiani tende a usare lo schermo mentre si allatta oppure si svezza appunto il bambino quindi durante i pasti e quindi vuol dire che stiamo abituando sempre di più questi bambini a vederci con questo strumento in mano quindi le regole sono quelle a volte direi di buonsenso quindi durante i pasti pranzo e cena ma è lo smartphone è chiaro però che se io dico al mio figlio di non usarlo è chiaro che anch'io devo metterlo da parte quindi sarebbe bello metterlo da parte oppure sabato e domenica la regola del detox tecnologico senza cellulari non si accendono e poi comunque i bambini molto piccoli seguirli non lasciarli soli cercare di seguirli mentre navigano beh regola il contratto prima di dare uno strumento andrebbe fatto una sorta di percorso con questi bambini e soprattutto con noi genitori perché dobbiamo formarci l'idea di avere un patentino digitale noi come associazione abbiamo creato un'app gratuita che si chiama Ok Digitale che permette proprio di acquisire il patentino digitale per il bambino prima di avere il primo smartphone ma anche il genitore deve avere il suo bel patentino di genitore digitale perché è vero che il bambino avrà il suo primo smartphone ma il genitore è pronto a seguire il ragazzino in questo percorso e questo è fondamentale perché è un rapporto che si deve costruire quindi la tecnologia va utilizzata vanno acquisite le competenze sia da parte del bambino sia da parte dell'adulto che poi deve essere lì a monitorare a controllare e anche a saper dire no quando non si può accedere a determinate app giochi applicazioni Parliamo di videogiochi ci sono dei consigli proprio per cercare di non finire in una dipendenza perché i ragazzini adorano i videogiochi ci sono i videogiochi diciamo di questo periodo sono particolarmente affascinanti in realtà non sono più giochi ma sono vere e proprie esperienze a volte anche di vita perché all'interno del gioco oltre a giocare si possono fare un sacco di attività quindi anche chiacchierare con gli amici conoscere nuove persone quindi sono molto direi invasivi dal punto di vista dell'utente il consiglio è quello intanto prima di regalare un gioco al nostro figlio di farglielo scaricare di controllare sempre il codice PEGI che è un codice che classifica il gioco in base all'età quindi quel numeretto che vediamo in verde o in arancione o in rosso con l'età indica appunto il momento in cui si può regalare quel tipo di strumento invece purtroppo molto spesso vedo giochi 18 o più quindi da 18 anni in su regalati a bambini di 10 anni e quindi chiaramente è come far vedere un film a un bambino che non potrebbe vedere perché non è pronto in quell'età ricordiamo comunque che la tecnologia può pure avere un aspetto didattico i genitori possono seguire i bambini per insegnare loro delle cose con la tecnologia la tecnologia ha degli aspetti importantissimi con l'intelligenza artificiale a mio avviso si potranno fare anche tante sperimentazioni anche interessanti bisogna stare attenti all'intelligenza artificiale a quello che arriverà perché con l'intelligenza artificiale quindi chat e gpt che ritornerà attiva penso entro breve avremo la possibilità di far fare a un'intelligenza artificiale tutte quelle cose che a noi non piace fare quindi dobbiamo stare un po' attenti a non appiattirci però dallo stesso d'altro canto si potranno fare anche tante cose interessanti quindi posso far sperimentare a mio figlio un'attività scoprire l'antica Roma raccontata magari da Cicerone con un'intelligenza artificiale che gli fa proprio sperimentare e vivere quelle esperienze quindi ci sono aspetti sia positivi sia negativi è chiaro che come qualunque strumento bisognerà conoscerlo approfondirlo e questo ci permetterà a noi adulti di poter trasmettere delle informazioni correttamente il vero rischio è che molto spesso ne conosciamo molto poco del mondo digitale e lo deleghiamo ai nostri figli e capisce bene che poi diventa pericoloso perché è vero che i ragazzi possono essere più avanti di noi rispetto all'utilizzo della tecnologia ma il senso che dobbiamo dare alle cose invece le dobbiamo mettere noi adulti quindi io direi che è un percorso da fare insieme perché è un percorso di crescita e dobbiamo evitare che la distanza digitale fra noi e i nostri figli diventi anche poi distanza relazionale perché questo è il vero rischio benissimo grazie per questi consigli preziosi ringraziamo il professor Dava Enia arrivederci grazie grazie